buona visione ma che cazzo che succede? dove sono? è Acri quello deve essere il suo bersaglio devo essere svenuto ho fatto un sogno strano era un bel pezzo che non dormivo la cosa non dovrebbe sorprendermi ma che Grazie. 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 Un attimo, perché non sei volta io? Sono bloccato qui con Maria. Cazzo. Significa che questo è un sogno assurdo. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, sì, tutto bene. Strani sogni, tutto qui. Va bene. Lascio che ti prepari. A dopo. Ah, gentile unirti a noi. Scusate, notta taccia. Che professionista e che approccio professionale. Lascialo in pace. Oh, scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. Segni di follia? Sean, per favore. Va bene. Scusate, notta taccia. Scusate, notta taccia. Scusate, notta taccia.